Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Come ben saprete sono ormai tre mesi, tre mesi, già tre mesi, che Michele ci siamo trasferiti definitivamente qui a Maratea lasciando alle nostre spalle Roma. Cosa? Che vuol dire che non sapete niente del nostro trasoloco? Vuol dire che non avete visto il nostro scorso video o che non mi seguite su Instagram. Praticamente per due mesi non ho fatto altro che parlare di trasoloco. Comunque adesso ho smesso. Nello scorso video, prima di iniziare a inscatolare tutta la nostra vita, io e Michele abbiamo affrontato il decluttering dei nostri rispettivi armadi. Se mi state immaginando in armatura scintillante mentre cerco di sconfiggere un drago, siamo piuttosto vicini a quello che è successo davvero con il mio armadio. Prima però di iniziare a controllare cosa sparca gioia e cosa non più, vi voglio parlare dello sponsor di oggi, sponsor molto importante a cui tengo veramente tanto. Si tratta di Elia Lingerie, un brand che produce intimo mestruale in fibra vegetale bio. Non so voi, ma io sin da piccola sono sempre stata ossessionata dalla quantità di immondizia che produciamo. Avete presente quando nella regione degli scacchi Beth sta a letto da piccola, fissa il soffitto, vede la scacchiera e gioca delle partite immaginarie? Io pensavo a quante immondizie producevo io, quante immondizie produceva la mia famiglia, quante immondizie produceva il mio quartiere, quante immondizie poteva produrre Roma e così via. Sì, ero una bambina strana, sì, e l'immondizia mi spaventava. Non che adesso sia cambiato, perché se ci pensate, una donna nell'arco della sua vita media utilizza circa 12.000 assorbenti. Sì, 12.000, 12.000, 12.000. Stiamo parlando davvero di tantissimi assorbenti, che vanno a sommarsi ai circa 24 miliardi di assorbenti che utilizzano solo 90 milioni di donne nell'Europa occidentale. solo in Europa occidentale. 90 milioni di donne che utilizzano 24 miliardi di assorbenti che si vanno ad aggiungere a tutti quanti quei rifiuti che noi non possiamo riciclare. Ora sapete perché continua a soffrire di insonni anche adesso. Quindi sono qui pronta a testare qualsiasi tipo di alternativa sostenibile e che eviterà ai figli, dei nostri figli, dei nostri figli di morire soffocati sotto tonnellate di assorbenti. La linea di Elia Lingerie è perfetta per tutti i tipi di bisogni, per tutti i tipi di flusto. È realizzata in fibre vegetali bio e poi è veramente molto carina. Parliamo un attimo della composizione della lingerie. Come potete vedere è veramente molto 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 sottile e per questo infatti è veramente molto molto comoda. Abbiamo uno strato di cotone bio, un tessuto in fibre di eucalipto, un tessuto impermeabile antiperdite in pool riciclato e poi un secondo strato di cotone bio per l'esterno dell'intimo. Con quest'intimo potrete andare a sostituire i tamponi, gli assorbenti e anche le cap. Se avete difficoltà ad utilizzare e non vi sentite a vostro agio, io per esempio non riesco ad usarle. Quindi queste per me sono veramente un'alternativa fantastica. Si lavano comodamente in lavatrice a 30 gradi. Se tenute bene possono durare 5 anni, non so voi ma io presto particolare attenzione ai capi e cerco di farli durare il più possibile. Sapete poi che cos'è la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto di Elia Lingerie? E che l'intimo è comodo, è veramente comodo. Io non so voi ma io detesto dormire con l'assorbente. Non avete idea di quanto sia bello dormire con quest'intimo, veramente è fantastico. Io poi ho preso due modelli, è diverso l'intimo, lo stesso modello. Questi non li ho ancora mai indossati, ve li faccio vedere. Il primo è questo, lo trovo super carino perché ha questo dettaglio, questa V in merletto di cotone, bellissimo. E poi questo altro modello più semplice ma altrettanto carino ma soprattutto altrettanto comodo. E questa qua ha il bordino di merletto elastico. Come vi dicevo è veramente comodo, quando li ho provati non ho avuto minimamente problemi di perdite, di odori sgradevoli. Veramente è andato tutto benissimo. Un altro buon motivo per sostenere Elia Lingerie? Questo brand dona il 10% di tutti i suoi ricavi ad associazioni e progetti di ricerca per le endometriosi. Nell'info box vi lascio il link al loro sito dove trovate tutte quante le informazioni e dove potete vedere tutti quanti i loro modelli di intimo. Sono uno più carino dell'altro. Quindi se questi non sono già degli ottimi motivi per provare Elia Lingerie, ricordate la quantità di immondizia che producete ogni giorno. Vi ricordate 12.000 assorbenti? 24 miliardi di assorbenti che vanno ad aggiungersi ai rifiuti indifferenziati che non potremo mai smaltire. Adesso torniamo al nostro decluttering insieme al brutale e malvagio Michele che mi ha aiutato ad abbandonare un sacco di vestiti che sono stati donati, regalati e venduti perché qui ragazze non si butta niente. L'audio è strano è perché il mio microfono è attaccato a due prolunghe, quindi nel caso non andasse in buon porto questa soluzione MacGyver, metterò dei sottotitoli perché non potremo più rigirare comunque questo decluttering. La prima è questa gonna, che è una gonna in tulle. L'avevo presa per un matrimonio e l'ho già messa per un matrimonio. Sparca gioia? Uno sparca gioia, amore. Era molto carino però. Fa un po' un incrocio tra principessina e... Principessa ballerina. Principessa ballerina, perfetto. Questo va nella pila dei siti da dar via. Poi abbiamo un'altra gonna matrimonio, questa è chiaramente la mia sezione degli api di quelli da occasione. Questa gonna l'ho indassata già a un paio di matrimoni, mi sono dimenticata di portarla in tinteria perché è ancora sporca di champagne, non so se si vede. Molto carina però l'ho già messa, tra l'altro anche al matrimonio di mio padre. Ma poi è finito il tuo periodo rosa. È vero, è finito il mio periodo rosa. Però questa l'avevo messa con questa e con delle scarpe oro. Non lo so, forse la voglio tenere ancora, guarda. Non è male, è carina. Questa è la mia mese matrimonio. Però devo dirti la verità, non mi entusiasma. Mi fa un po' educanda. Questa invece sì, questa la tengo. È carina. È molto carina. Molto carina. Qua ho tutte cose che uso, tipo questo blazer. Nero lo tengo. Camicetta Westwood presa in usato in Giappone, taglia minuscola. Dicono 40, però chiaramente dico una 34 in realtà. Questa qua la tengo. Altre due camicie che tengo. Questa me l'ha data mia sorella, che l'ha presa all'usato, al vintage. Questa invece l'ho presa all'usato in Giappone. Ed è di World Wide Love, che è un domestic brand giapponese che mi piace moltissimo. Ed è super buffa, ha un taglio veramente molto bello. E poi il loro logo è super carino. La tengo perché mi piace davvero molto. L'ho indossata poco, però dovrei imparare ad indossare un pochino più le camicie. Questi li tengo tutti perché sono i miei vestiti estivi. Passiamo ai miei mille vestitini neri. Questo, che l'ho messo tantissimo quest'estate, mi piace veramente da pazzi. Lo avete già visto perché l'avevo messo nel video del try on haul estivo. Questo ce l'ho da tantissimi anni, un vestitino super semplice che ho preso da H&M. Non c'ho un capello incastrato nella zippa. L'ho dovuto rammendare in più punti, però non me ne separo perché è super comodo. Mi piace veramente tantissimo. Anzi, dovrei ricomprarmi la stoffa per cucirmelo uguale. Ancora non l'ho mai fatto. Questo è il vestito lungo tattico per quando non ti vuoi depilare d'estate. Tutina, altro vestito preferito per l'estate, altri vestitini estivi. E poi il vestito della campagnola di Scinta. Questi li tengo tutti quanti perché sono i vestiti che ho preso per l'estate. E mi piacciono tutti, mi sono tutti molto bene, quindi non li declattero. Altro top estivo preferito. Altra camicetta che mi piace veramente moltissimo, anche se l'ho indossata poco perché ha un po' un taglio strano qua in vita. Devo riuscire a trovare un modo per metterla di più. Il modello è super carino, la Fantasin mi piace tantissimo. Poi è veramente molto fresca, quindi per l'estate è perfetta. Questa invece l'avevo presa perché mi fa le tette molto grandi, quindi non lo so. L'azzurro così non lo uso molto, però forse con un paio di pantaloni bianchi d'estate magari effettivamente potrei indossarla. Se dire che questo decluttering non sta funzionando, sto tenendo anche le cose che avevo deciso che avrei dato via. Ah, questa, altra blusa carinissima che ho preso Mademoiselle Vintage, del negazzo di Chiara. E questa è la tengo. Poi, gonna fantastica, sempre per l'estate. Questa giacca l'ho ereditata da mia sorella. Mi piace tantissimo, l'ho usata veramente molto molto spesso, soprattutto tipo sopra i jeans. Anche questa ovviamente la tengo perché è una delle poche cose carine che ho quando ho qualcosa di un pochino più carino. Sì. Spero, a te ho bisogno di Michele adesso. E lui che è cattivo e malvagio e mi dice cosa devo buttare, cosa devo tenere. Michele hai fatto? Prima cosa su questo non dici se Michele è questo maglione Westwood uomo. Allora, a me piace moltissimo. Dire lo teniamo così lo usi un po' anche tu se vuoi. Stavo per dire, mi piace moltissimo nel senso che lo userò io. Ok. C'è questa questione per cui prende fiori all'armadio pieno, però ogni volta che deve fare qualsiasi cosa, tipo che ne so, andare a Milano, andare a un matrimonio, andare a una festa, un bar nizba o a Natale con i miei, scopriamo che ha bisogno di comprare un nuovo vestito. Così. È così Michele. Questo? A me non piace. E' realtà è molto felino. Non mi piace. A te non piacciono le cose che brillano? Sono una cazzaladra al contrario. Io invece sono molto cazzaladra, quindi questo lo tengo. Secondo me ha altro potenziale. Allora, qui invece ho... Una camicia da notte. Una camicia da notte, era una camicia da notte che era di mia nonna, che io ho aggiustato, sistemato, rimesso del pizzo. Perché questo è il mio cosplay di Queenie. Vediamo di fantastico. La notte la tengo assolutamente perché è bellissima, è di seta, però non so questa se tenerla alla vestita. Devo dirti che non mi sparca particolare gioia. Allora facciamo così, mi tengo questo, ma non la vestaglia. Linea unisex Westwood, camicia jeans. Non mi piace. E' molto figa invece. Il problema è che di questo blu non sono mai riuscita a metterla. Se non la metti perché tenerla nell'armadio? Magari ha... Mi ha detto vendere una camicia Westwood. Eh vabbè, ma magari trovo una padrona che la fa uscire, invece tu la tieni al chiuso. Questa è molto carina. Questa è Stradivarius che cerca di essere un po' Chanel. No. No. Questo invece è un vestito bellissimo che ha fatto la mia zia, cucito a mano. Se lo tengo perché è veramente bellissimo. Non lo ricordo. Sono l'unica che aveva la sua taglia. Carino. E' quello che mi fa le tette grandi. Allora bellissimo. Questo mi piace molto, però va nella pila di quelli che devo modificare perché mi sta enorme. Questo invece via. Ma hai deciso da sola. Questa? Un po' lunga. Non lo so, facciamole vedere queste belle gambe. Camicetta blu. L'unica cosa blu che ho nel mio armadio. Direi che la diamo via. Non te l'ho mai vista addosso. Perché non ce l'avevo niente con cui metterla. Perché avevo bisogno effettivamente di qualcosa di bianco. Ah, questo rientra nella regola. Fiore non ha mai niente da mettere anche se l'armadio è pieno. Ma sì, vedi? Non avevo niente con cui abbinarla. Con questi pantaloni, perfetta. Quest'estate se la metti... Io la metto in pausa. Quest'estate se la metti, bene. Altrimenti la regaliamo a qualcuno. Guarda che i vestiti a stare da soli nell'armadio poi si intristiscono e piangono. Ti direi che sono entrambe abbastanza carine. No, sì. Anni 70? No. È bellissimo. No. Sì, sì. Sì. Sì, è comodo. No. Sì, è per la maglietta di un bambino. Un altro caduto con il cartellino. Carino. Un altro vestito che mi va grande. Bene. Ora ne ho i cassetti. Questo sì? Sì. 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 Tutti i miei t-shirt di Star Wars si tengono. Anche questa t-shirt di Final Fantasy XV si tiene. La mia t-shirt di Akira è bellissima. Sì. È una t-shirt di Fantastic Fist. Un'altra t-shirt di Akira. Ah, questa è bellissima. La morte nera è proprio un velluto. T-shirt del Kukumaster. Questa è una t-shirt di Basquiat. Un po' distrutta forse. Questa è bellissima invece. Questa è una t-shirt di una collaborazione fra Shani Jump e Oniqlo. E c'è la prima copertina di Naruto. Questa è Michele? Questa l'ho messa tantissimo. Brutta. Brutta? Bruttissima. Hai disegnato malissimo la cosa. È molto carina. La trovo orribile. Questa l'ho indossata per un matrimonio. Via. Facci vedere. Sì. Pancia corta. Sì. Sì. Questa l'ho fatto io e lo regalo ad Elena. Molto carina. Questa è quella che ho finito quest'estate che ancora non ho mai vista perché l'ho finita e che era finita l'estate. Non mi entusiasma però. Ah, l'ho fatta io! Ah, scusa. Per padidastra tengo. Questo mi va enorme. Questo però lo do via che è la magliettina con lo scollo a cuore. La maglietta dello scandalo. Sì, questo non l'ho mai messo, ce l'ho da tantissimi anni. Beh, allora è l'ora di darlo via, mi sa. Questo non lo metto più. No, via. La felpa di Shazam. La felpa di Shazam la possiamo dare via così magari qualche altro appassionato. Si illumina. Sì, fighissima. Poi, questo mi piace molto ed è diverso dall'altro. Ma ti ricordi, questo lo mi sa anche una volta per andare da tua mamma. A me mi fa ridere che tu mi ricordi che una volta hai messo uno dei tuoi vestiti. Poi ho scoperto di avere un cardigan rosso. Che diamo via. Perché? Un cardigan rosso di lana. Perché dovrei dare via un maglione su? Questo è un cardigan sempre di lana Westwood. Questo è un cardigan nero di Fendi. Cardigan blu Westwood. Westwood. Cardigan Westwood nero. Un cardigan grigio di che fondo? Cardigan giallo. Carina. Questo lo tengo perché lo uso un sacco, questo qua di cotone semplice. Adesso ho un po' di maglioni oro e vai a argento. Diamoli via tutti. Questi. Maglioncino oro mi piace tantissimo. Diamolo via. No. Questo no perché era di mia nonna. Vabbè, sarà un ricordo teniamo. Ah, vedi questo? Te lo ricordi? No, è orribile. Oh, però si è ritrovato il mio maglione giallo, quello caldissimo. Mi fa ridere che tu ritrovi le cose nell'armadio. Poi qua ci sono una serie di cose random, tipo questo. È una delle prime cose che ho cucito quando andavo all'alimentari. È un fantastico fiocco anni 80. Molto carine. Bicchiere e burro birro. Cosa ci fanno nell'armadio? Non lo so. Poi abbiamo un sacco di shopper. Shopper? Sì, mi sono stufata. Non so, Michele. Io ti direi che sono bellissime e che non dovresti darle via. Però è anche vero che stiamo cercando di fare del decluttering serio. Ok, direi che in questa sezione mancano solo i pantaloni. Qua invece abbiamo delle fragole per i boccoli. Cosa? Funziona in questo modo. Tu hai i capelli. Tu hai i capelli. Metti così. Naturalmente non funzionano. Queste sono solo quattro fragole per quattro ciocche, quindi c'è un problema di base. Allora, qui abbiamo i miei pantaloni, quelli che sto usando in questi giorni, quindi questi direi di no. La mia felpa da uomo, quella che uso per stare in casa, quella della NASA. E la tengo. Iniziamo con shorts, shorts nuovi. Questi, Michele, forse li devo provare, mi sembra nemmeno un sacco corti. Questi li devo provare, mi si me li ha dati mia madre. Passiamo ai jeans. Vediamo un po'. Queste due magliette. Ho detto, questa me l'ha regalata mia mamma. Gliel'ho vista indosso e ho detto, mamma che bella maglietta. Sei prentilevata dicendo che hai inteso regalo. Questi li ho regalati mia madre. Anche questi me li ha presi mia madre. Questi shorts distrutti, comprati in Giappone. E io ci andavo in giro. Guarda quanto sono corti, Michele. Sono terribili. Ci andavo in giro. Io ho ancora le orecchie di Pikachu, ma ne l'ho dimentica. No. Sì. No. No. Sì. Finito! Quella roba che sta là sopra. No, quelli sono vestiti copertati da Maratea. Quindi sono già salvi. Sono già salvi questi. Devo vedere questa roba qua. E anche i cappotti. Però i cappotti non sono divertenti da vedere. No, infatti faremo un decluttering silenzioso. Nessuno li sentirà urlare. Nell'armadio dei cappotti nessuno può sentirti urlare. Guarda quanto sono stata brava. Sono soddisfatta di questo decluttering. Ho ancora in testa le orecchie di Pikachu. Un sacco di cose comunque le devo provare per vedere se mi vanno bene. Quindi forse potrebbero aumentare le cose che do via. Comunque sono soddisfatta perché praticamente ho salvato solamente i miei vestiti estivi, che sono nuovi. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo che nell'info box vi ho lasciato tutte quante le informazioni riguardo Elia Nigeri. Mi raccomando, dateci un occhio. È veramente molto importante ed è un'alternativa da prendere seriamente in considerazione. Cosa ne pensate invece del decluttering? Ho fatto un buon lavoro? Secondo me sì. Può non sembrare dal video, ma adesso vi faccio vedere un attimo la situazione del mio armadio qui a Maratea. Come potete vedere la situazione è decisamente migliorata. Anche se tutti quanti i vestiti sono appesi da un'altra parte. E le mie magliette e maglioni sono da un'altra parte. Sembrano ancora un sacco di cose, però vi assicuro che prima erano ancora di più. Lo erano. Adesso va decisamente meglio. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!